E a un certo punto sei anche andata in Inghilterra, forse per impraticherti di più nel completo. Sì, perché in Inghilterra comunque è una disciplina molto seguita, molto popolare, ci sono moltissime gare più che altro e quindi dopo aver finito la scuola mi sono scritta all'università qui in Italia, però non frequentavo, nel senso che stavo su, preparavo gli esami e poi venivo giù. Però stavo su, vivevo su e quindi sono riuscita a fare questa esperienza e per sette anni sono stata su fissa. Poi durante l'inverno, quando non c'erano gare, mettevo i cavalli al prato, tornavo a casa. E sei riuscita a arrivare fino a fare le Olimpiadi. Esatto.